Approderà sui banchi della Camera dei Deputati il nodo relativo all'ipotesi di riperimetrare al ribasso i siti di interesse comunitario e le zone di protezione speciale del Gran Sasso. Lo strumento è una interrogazione firmata da Elisabetta Piccolotti ed Angelo Bonelli dell'Alleanza Verdi Sinistra, con destinatario il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il documento in pratica in prima battuta va a ripercorrere il perché sul Gran Sasso siano stati istituiti SIC e ZPS, l'obiettivo la salvaguardia della grande biodiversità presente sul massiccio appenninico. E poi l'interrogazione mette sul tavolo quelle che sono le posizioni di chi vorrebbe tagliare SIC e ZPS, posizioni legate all'attrazione di un turismo di massa legato a sci da pista e ricettività, che però, scrivono Piccolotti e Bonelli, è sempre meno sostenibile sia dal punto di vista ambientale che economico. I due esponenti dell'Alleanza Verdi Sinistra ricordano poi quelli che sono i dettami dell'Alphaert Program, che nei prossimi decenni mirà ad avere almeno il 50% della superficie terrestre convertito in area protetta. La normativa europea, in pratica, chiede di aumentare il territorio tutelato e l'Abruzzo ha già una superficie protetta, pari al 30%, che è rispondente ai livelli comunitari. E quindi, per Elisabetta Piccolotti e Angelo Bonelli, procedere a tagli sarebbe una scelta incomprensibile. In definitiva, l'interrogazione, partendo dal caso Gran Sasso, chiede al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica quali iniziative intende assumere per difendere le aree protette e la biodiversità. Oltre che alla Camera dei Deputati, è stato annunciato che una interrogazione dai contenuti analoghi sarà presentata anche in sede europea.